La definita la primavera di Caivano, il presidente Vincenzo De Luca, si tratta di un progetto di riqualificazione edilizia che vede in prima fila la regione Campania e l'Acer, l'agenzia campana per l'edilizia pubblica residenziale, per un investimento di 3 milioni di euro per la riprogettazione degli spazi porticati nei rioni mattoni russi e parco verde a Caivano. Parte un progetto urbanistico, la chiusura dei porticati negli alloggi popolari di proprietà dell'Acer per ricavare spazi pubblici da destinare ai ragazzi. Parte la formazione professionale con le aziende locali, la regione destina 7 mila euro di contributo a fondo perduto per ogni contratto a tempo indeterminato che fanno le aziende insediate nel territorio di Caivano. Credo che stiamo dando un segno di grande attenzione. Altri particolari li ha forniti il presidente di Acer, Davide Lebro. Noi partecipiamo come Acer alla primavera di Caivano, nel senso che i nostri porticati vuoti, abbandonati e utilizzati in malevodo verranno riqualificati insieme agli edifici per mettere finalmente delle funzioni vere all'interno. Oggi sono vuoti e abbandonati, la regione metterà delle sue funzioni come la ASLE e anche il comune di Caivano. È nato quindi un accordo di programma fra comune di Caivano, regione Campania e Acer e finalmente daremo una destinazione a questi spazi. I cittadini tanto hanno chiesto che quelle zone non vengano abbandonate ma che ci siano delle funzioni, funzioni che possono essere sia commerciali che sia sociali. Presente all'iniziativa il direttore dell'ASLE Napoli 2 Nord, Mario Iervolino e i commissari prefettizi di Caivano. Abbiamo ascoltato Filippo Dispenza. La chiusura, la riqualificazione dei porticati di questo complesso di edilizia popolare anche per eliminare i pericoli, i rischi e le insidie che si nascondono dietro un porticato di questo tipo in una zona del genere che va assolutamente recuperata al vivere civile, al vivere sociale. L'obiettivo è promuovere la creazione di spazi adatti alla vita quotidiana, alla socialità e alla formazione di nuove relazioni umane, inclusività e qualità sociale.